Mi stai chiedendo qual è il suo stato d'animo alla fine di questo derby, un Arezzo che comunque ha reagito in inferiorità numerica, ha evitato la sconfitta, si allunga la striscia positiva, c'è comunque l'episodio dell'espulsione di Biondi, insomma il rammarico per non aver vinto una partita che potrebbe essere importante in chiave playoff, qual è la sua analisi? No, il rammarico no, il calcio è anche questo, nel senso non mi è piaciuto, devo dire la verità, l'approccio alla partita, dovevo essere molto chiaro, dovevo essere schietto con i miei, loro molto più forti, diciamo sulle seconde palle, molto più cattivi, noi invece cercavamo sempre di giocate un po' così estemporanea, pure Elio sempre aveva palla sui piedi, si abbassava troppo per prendere palla, partita da troppo lontano la porta, c'è qualcosa un pochettino da rivedere, no? Perché poi adesso per vincere le partite prima devi essere cattivo, devi fare prima sulle seconde palle come loro e poi se sei più bravo le vinci, quello è il rammarico che non è possibile rimanere inferiore a numerica e poi la squadra la domina la partita, a momenti la ribalta la vince, vuol dire che tu quello che hai fatto dopo devi fare pure prima, non è tanto i nomi di chi scende in campo, è proprio l'aspetto, l'aspetto è che io ci tengo più di tutti perché bisogna essere cattivi dal primo minuto, vinci quando sei più cattivo e corri come loro, se corri invece un po' di meno e subisci il loro contatto fisico ti fa tutto più difficile. Poi abbiamo preso il gol, non abbiamo perso l'umera ragione, ci siamo messi a giocare con due e mezzo al campo che erano Mancino e Pizzudelli e tre davanti, poi la squadra ha reagito bene, si è allungata due o tre volte bene, abbiamo avuto due episodi che avremmo anche vincere la partita, però questo deve nascere tutto prima, non può più di cattivare al momento dei primi 20 minuti, solo questa è la mia analisi, ma non cambia niente, all'andata avevamo perso, oggi abbiamo pareggiato, l'ottavo risultato utile consecutivo che dal mio rientro, io ho fatto otto partite adesso e dieci prima, ne avevamo persi solo due, perciò ci può stare.